Intanto prima dell'intervista, anzi facciamo l'intervista a tutti e due allora a questo punto. Saluto la mia ragazza, la mia tutrice, comunque la saluto, ti amo amore mio, un bacio da Cervia. Un saluto a Murro intanto, parliamo con Gabriele Zoccante dopo una partita estenuante, anche giusto forse lasciarsi andare. Una a uno, bella soprattutto nel primo tempo, nel secondo tempo un po' più tirata, bella da tutti i due lati, poi i rigori hanno deciso che dovevate passare voi, anche se è stata dura anche ai calci di rigore perché sono stati sbagliati tantissimi. Sì, anche i calci di rigore sono stati duri perché il percorso che abbiamo fatto, le partite che abbiamo giocato, anche con temperature non tanto favorevoli, ma comunque il caldo c'è per tutti, è stato un percorso lungo, faticoso. Siamo arrivati oggi, entrambe le squadre, stanche alla fine, si aspettava solo il triplice fischio e poi si è andati alla lotteria dei rigori che è sempre una lotteria, insomma. Stanchi, sicuramente anche i malconci, però domani la voglia di buttare il cuore oltre l'ostacolo ci sarà sempre. Assolutamente sì, perché gli stimoli poi nel giocare una finale vengono da soli e cercheremo di recuperare il più possibile e festeggiare per quanto possibile e poi domattina avanti sotto con la finale, insomma, mettendo tutte le energie che ci restano e che comunque, ripeto, una finale porta a ritrovare. Io ti ringrazio e vi faccio un in bocca al luo per domani. Crepito!